Gaudiano Ateri penso che il Lega Pro è un allenatore vincente, è un allenatore importante. Penso che per la piazza di Pescara è un bene, è un bene. È un allenatore forte, è un allenatore però che gioca un calcio molto propositivo, molto propositivo. Lo devi assecondare come allenatore, devi prendere i giocatori giusti perché se gli fai la squadra come si deve lui è in grado di farti divertire e di vincere come ha dimostrato con me a Nocerina e poi a Benevento. Ma certo perché è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto sempre cambiate a vincere e ha vinto pure. È normale, lui è sempre giocato con il 3-4-3 da quando è iniziato la carriera d'allenatore, quindi è normale, penso che Pescara lo sa, il presidente Sebastiani penso che sia un presidente intelligente. Se prende Auteri vuol dire che sa chi sta prendendo.